Rendere la povertà illegale, che è l'anima della campagna Miseria Latra promossa dal Gruppo Abele con il sostegno di Libera, all'interno della quale ci sono ben 10 proposte molto precise, molto puntuali che indicano una traccia, una rotta da seguire. Si va dal reddito di cittadinanza alla ridiscussione del cosiddetto fiscal compact, quindi dei patti di stabilità che vincolano i paesi, si va dalla ridistribuzione delle risorse disponibili, tagliando le spese militari, tagliando le spese in grandi opere pubbliche inutili e restituendo queste somme alla spesa sociale. Misure più semplici, che poi entrano nelle tasche delle persone, penso alla ridefinizione dei debiti con Equitalia, col fisco e perché no, anche nelle imprese il pagamento, questa ormai è diventata proposta di tutti, degli arretrati da parte della pubblica amministrazione, quindi un mix di misure che però hanno un obiettivo davanti, che è quello di lavorare per aggredire le disuguaglianze sociali. Le mafie si alimentano di povertà e la generano, questo è proprio facilmente misurabile, pensando a quello che è sottratto in termini di ricchezza nelle regioni in cui le mafie sono più presenti, ci sono ricerche fatte dalla Banca d'Italia che lo hanno definito, questo gap mafioso sulla ricchezza prodotta con alcuni punti percentuali di PIL. Le stime sono tante, certo se le metti insieme i 60 miliardi di dialogo della corruzione, i 130 miliardi stimati di fatturato delle mafie, l'evasione fiscale, l'ecomafia, il giro dell'abusivismo edilizio, ha stimato in oltre 500 miliardi di Euro il volume complessivo dell'Italia illegale, dell'Italia criminale. Queste risorse sono sia risorse sottratte, penso a quella della corruzione in particolare alla spesa pubblica o l'infiltrazione nella gestione del ciclo dei rifiuti, sia risorse criminali che vengono immesse nel mercato e che alterano profondamente l'economia, chiudono le imprese, chiudono i negozi, chiudono le attività commerciali che non ce la fanno per la visa economica, ma basta vedere gli ultimi sequestri fatti ad esempio a Roma di attività commerciali, ecco lì un fiorire di ristoranti, centri commerciali, attività anche nel cuore della capitale d'Italia, in realtà messe in piedi, tenute in piedi da riciclaggio di denaro sporco, dai soldi di Andranghara e della Camorra che non conoscono certo la parola crisi. La Libera non a casa ha lanciato due campagne, la prima è dedicata ai beni immobili confiscati che sono oltre 11 mila, si chiama Libera il Welfare, cioè l'utilizzo dei beni immobili confiscati come strumento di inclusione sociale, tutti vanno utilizzati questi beni, una parte già è destinata a queste attività, perché abbiamo censito circa 400 associazioni, cooperative sociali che questi beni li gestiscono, li fanno funzionare bene, in apparenza a quello che è accaduto con le terre confischiate alle mafie, con il progetto Libera Terra, con le cooperative, il consorzio, i 150 posti di lavoro creati dal consorzio, con le imprese dell'indotto, oltre 1000 posti di lavoro. La seconda campagna riguarda le aziende, invece sono il vero punto di crisi, impresa bene comune, l'idea è quella di lanciare una grande campagna di adozione da parte dei marchi italiani più prestigiosi delle aziende confiscate, queste due campagne in qualche modo hanno anche ispirato una riforma della normativa che noi ci auguriamo venga approvata quanto prima. Che cosa prevede? In estrema sintesi, anticipare la possibilità di utilizzare i beni e l'attenzione e la cura delle imprese al momento del sequestro, non attendere la confisca definitiva. Perché troppo spesso, per il tempo che passa, questi beni e queste imprese soprattutto, quando arrivano a confisca sono deteriorati o destinati a chiudere. Secondo, garantire l'accesso al credito per le imprese sequestrate, perché la prima cosa che accade, curiosamente, è la chiusura delle linee di credito da parte delle banche, le banche tengono aperte le linee di credito mafiosi e le chiudono le aziende sequestrate. Garantire l'accesso al credito per le imprese e per chi gestisce i beni immobili, tutelare i diritti di chi ci lavora e infine trasformare l'Agenzia Nazionale per i beni confiscati in una sorta di agenzia per lo sviluppo sostenibile, mettiamola così. Cioè un'agenzia che utilizza questi beni, che sono beni comuni, beni pubblici, per farne appunto occasione di lavoro e di crescita.